Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. A Castione della Presolana, sabato 29 aprile, è in programma la rassegna corale Canto di Primavera. Presso la chiesa parrocchiale si esibirà alle ore 21 il coro La Presolana, insieme al Quartetto Armonie e al coro Baitone di Edolo. L'ingresso è gratuito. Domenica 30 aprile torna a onore la seconda edizione della corsa non competitiva Run for Fun. La manifestazione, organizzata in memoria di Danilo Colotti, si snoderà su un percorso di 7 chilometri. La partenza è prevista per le ore 10.30 dal piazzale del Comune. Per celebrare la Festa dei Lavoratori a Colere, domenica 30 aprile si svolgerà il consueto concerto del 1 maggio. Organizzato presso il Presolana Cultural Forum, l'evento propone l'esibizione del gruppo Colerese dei Bacaluna e del gruppo Iluf. Durante la serata ci sarà la possibilità di gustare piatti tipici. All'Effe, lunedì 1 maggio, torna la tradizionale Festa del Tessile. Durante l'intero pomeriggio, dalle 14 alle 19, avremo la possibilità di ammirare i costumi d'epoca, partecipare a laboratori di merletti, pizzo chiacchierino e trattura della seta. Inoltre, sarà possibile partecipare alle visite guidate al museo. Finalmente, lunedì 1 maggio, si terrà la seconda edizione della Valseriana Marathon. Un tracciato diverso rispetto a quello della scorsa edizione, con partenza da Nembro, attende i bikers più competitivi e agguerriti, con salite, single tracks e discese adrenaliniche. Due sono i percorsi previsti, il primo, di 60 km, valevole per la Coppa Lombardia MTB, e il secondo, Classic, di 40 km, valevole come prova di Orobie Cup. Torna anche questo fine settimana l'appuntamento con i percorsi turistico-culturali con degustazione. A Gazzaniga, sabato 29 aprile, un percorso inedito ci attende per andare alla scoperta dell'affascinante storia legata alla chiesetta di San Rocco al Lago, il cui nome ricorda un lago che ora non esiste più. Domenica 30 aprile affronteremo un itinerario inedito che dal suggestivo borgo di Castione della Presolana ci porterà in località Romentarec, dove la natura fra radure e cascinali sboccia in primavera. Per festeggiare la Festa dei Lavoratori, lunedì 1 maggio, vi proponiamo un affascinante itinerario naturalistico attraverso la Pineta di Piario. Tra arte e leggenda visiteremo le chiesette votive che troveremo sul nostro cammino. La prenotazione a tutti questi percorsi è obbligatoria, chiamando il numero 342 389 7672. Per questo appuntamento è tutto. Vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni sugli eventi in programma in Val Seriana e Val di Scalve visitando il nostro sito www.valseriana.eu Arrivederci e buona serata.